Ciao ragazzi, qui è la vostra Suorso Brett. Non mi stancherò mai di dirvi quanto sia bello vivere da liberi ricercatori spirituali anziché da persone religiose. Tutte le religioni, nessuna esclusa, comportano da parte nostra un impegno, uno sforzo personale, una misura, l'ottenere un determinato risultato di meno, ma è sempre misurabile ed è sempre attinente all'ego, ok? E quindi alla fine riporta sempre a noi stessi, alle nostre risorse limitate, al nostro modo condizionato di pensare, di operare, di prevedere anche gli eventi futuri. Noi possiamo solo rifarci a quello che abbiamo già vissuto e che costituisce il nostro bagaglio esperienziale o quello che possiamo creare con un'immaginazione che è comunque limitata come risorsa. La spiritualità invece ci permette di accedere a un serbatoio infinito, è proprio come paragonare una pozza d'acqua all'oceano immenso ed è lì che dobbiamo tuffarci in profondità in noi stessi per trovare la fiammella divina che è stata posta lì e che possiamo in ogni momento decidere di accendere. E tutto questo non ha a che vedere con l'ego ma ha a che vedere con la sua morte perché è solo in quel momento che potremo portare frutto.